Gli spaghetti con gli agretti sono davvero buonetti. Ok, la smetto. Ma voi li conoscete gli agretti? Hanno tanti nomi diversi, ma una cosa è certa, sono sempre ultra buoni. Ci ho fatto questo piatto di pasta facilissimo, che è una bomba. Aglio, olio, peperoncino, agretti, una spruzzata di pomodoro e poi devi usare il sugo per finire di cuocere gli spaghetti. Un topping di briciole croccanti ed ecco servito uno dei primi piatti più buoni della primavera. Le dosi sono sul mio sito.